buongiorno a tutti ragazzi come sicuramente saprete per la pesca luce è fondamentale l'utilizzo del cavetto questo perché il luccio ha migliaia di denti affidatissimi in bocca e se non lo vado utilizzare rischierò di farmi tagliare il filo di ammazzare il pesce di perdere tutto quanto disastro onde evitare questo si utilizza il cavetto appunto quelli più moderni sono in carbon una volta erano in acciaio vi faccio vedere nello specifico io come realizzo i miei cavetti e cosa utilizzo questa tipologia l'ho testata un po in tutto il mondo non mi ha mai deluso ci ho preso pesci anche molto importanti sono sempre rimasto soddisfatto io generalmente utilizzo due diverse grammature una o meglio diametri una con uno 0,90 mm e l'altra superiore al millimetro quindi una destinata a esche un po più piccole l'altra più grosse ma il principio di costruzione esattamente lo stesso utilizzo un cigar di floor carbon questo qui è uno 0,91 mm degli snap del della bkk il 51 kg e il 75 kg sono snap fantastici potentissimi super validi e sempre bkk le infinite swivel che sono delle girelle magnifiche di una potenza devastante a me piace usare componentistica di qualità così sono sicuro che se dovesse attaccare il pesce della vita quello se si romperà qualcosa non sarà il cavetto quantomeno ragazzi guardate che pesce andrò a prendere uno spezzone di floor carbon generalmente io sto sui 40 50 centimetri quindi lo vado a tagliare usando un filino abbondante perché una parte verrà sprecata per le diverse operazioni prendo delle crimp in alluminio specifiche per il floor carbon a secondo del diametro che sto utilizzando e lo vado a inserire nel filo quindi metto la crimp vado a introdurre la mia girella a questo punto vado a rimettere dentro a far ripassare dentro creando un'asola all'interno della crimp vi vado a lasciare un po di gioco interno in questo modo e poi vado a prendere la pinza per crimpare e vado a serrare la crema è così vado a stringere due volte con forza in questa maniera avrò attaccato in maniera super solidale la girella al fluoro vado a tagliare l'eccedenza stessa cosa vado a fare dall'altra parte assicurando lo snap al cavetto anche qui come prima quindi prima la crimp lo snap faccio ritornare all'interno della crimp in modo da costituire l'asola vi do la lunghezza che mi interessa così io vado a serrare ancora una volta si serra con forza tagliamo anche qui l'eccedenza e niente abbiamo già finito questo qui è il nostro cavetto se lo vogliamo testare andiamo ad aprire il moschettone inseriamo la parte della girella chiudiamo e tiriamo con forza come vediamo è un qualcosa di veramente veramente molto tenace l'unica precisazione che ci tengo a farvi è relativa alla lunghezza infatti utilizzo generalmente per quasi tutte le applicazioni 45 50 centimetri di lunghezza ed è perfetto nel caso dei jerk lo vado a accorciare un filino sui 35 40 centimetri proprio perché magari mi favorisce la giarcata troppo lungo magari può rompere le balle contrariamente invece se lo voglio eseguire per la traina allora lo posso anche fare da 80 centimetri anche un metro perché è così lungo innanzitutto perché tanto non dovrò lanciare e quindi non mi darà fastidio ma poi il fatto di avere comunque una girella molto distante fa sì che le varie alghe o sporcizie che il filo potrà raccogliere durante appunto la traina si andranno ad accumulare sulla girella e l'esca rimarrà a una distanza tale da non venire disturbata e rimarrà comunque efficace detto questo spero di esservi stato utile spero appunto che proverete a realizzarlo e mi farete sapere un po cosa ne pensate ci vedremo presto in molti altri nuovi video e iscrivetevi solite cose sapete già grazie infinite per l'attenzione a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti